per questo nuovo video io sono Mattia di fiducia e oggi siamo a un nuovo video su Granny ok non riuscire non riuscire a non riuscire a non riuscire a la testa di cazzo non riuscire a non riuscire a caputana porca puttana raga secondo me è già qua no 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 sei una pezza di merda al culo col tapping culo cazzo ci ha piazzato una trappola raga ci ha piazzato una trappola qua c'è il teddy e c'è un pezzo del fucile ti puzza non cazzo non cazzo o chi cazzo ma cosa si può ci sono le sbarre Porca puttana No raga Deve passare da sopra Ma vaffanculo Quanto siamo raga Siamo un minuto raga Non ce la faremo mai Sei un infame di merda Fattolo dire Con tutto il cazzo di cu Ok Sperando che non senti Chiudi la porta Merda no raga Cioè in extreme Sperando che Porca puttana L'ho vaffanculo L'ho vaffanculo Mi sono provato addosso No raga io ci scommettevo Che era lì sopra No mi cagavo Mi son cagato addosso raga Porca puttana No è stato orrendo raga Speravo di morire anche prima Mi sono ormai che lo so I have to leave this house Sì lo sto giocato Deve stare Mi sono ormai Porca Non ciò Porca Porca E' una trappola Una pezza di merda E che io non devo spuntarla in faccia Io raga No non ho vinto Ma le mani Mi sono ormai Ti puzza L'ha Di culo Porca No ma mi sono ormai Ma mi sono ormai Di culo Porca E' una pezza di merda E' una pezza di merda No no mi cago addosso raga Mi cago addosso Questa qua è la granny La prima puntata di granny raga Scusatemi ragazzi Era la pubblicità Merda E' un po' Buio No raga Non provate Mai La modalità Extreme Di granny Cazzo Cazzo Oggi ho fatto rumore No 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 Non mi senti Non mi senti No no Non mi senti Ma Ma no no ti prego non ho più ehi sacanica c'è una bagata c'è una bagata a 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 no mi l'obc e e l'os la e no no non è successo niente no non è successo niente non è successo niente no 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 pezzo di merda non no!! porca bacca merda so torendo io mi sto cagando addosso siamo già quattro giorni raga siamo già quattro giorni il resto non è che mi tra l'altro non mi la cara ti voglio bene c'ho la cacca tutto rosso raga c'ho la cacca nelle mutande porca vacca ragazzi si 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 porca vacca raga ti fa venire un infarto raga non provate mai la musica extreme forse ho già detto non non dello steno al ciclo il quinto giorno non raga trovate la moda externe ma fa cagare aspetta ok sono soltanto con uno schiaccio si sono tutto non sento normale la prossima volta faremo la modità easy oppure normal va bene anche la norma no 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 tu non m'hai visto tu non m'hai visto ti prego sei un infame di merda nonna sei un infame muori male ma muori no cosa succede raga sai che io non perderevo da anni raga no ti prego non ti girare bravo no la cassaforte raga non ho capito siamo nella cantina siamo nella cassa ti puzzano in culo ma ti puzzano in culo game over sta minchia non sei una pezza di merda vaffan... raga è troppo difficile perché in modalità ehm extreme non solo c'è buio non vedi una minchia ma è anche... aspettate raga ok non solo non vedi una minchia ragazzi in modalità extreme ma c'è poi c'è lei è anche molto più veloce mettiamo normal raga la prossima volta ok l'opportunità di ottenere il bonus 2 extra lux raga vai easy la granny c'è molto più lentamente hai il bonus hai il giorno bonus hai l'opportunità di avere il giorno bonus e non è scocchia è difficile la nonna è un pochino più veloce e ci sono anche c'è un lucchetto in più invece qua abbiamo due lucchetti in più poi abbiamo la moto dark è già attiva e la nonna è molto più veloce perfetto raga la prossima volta lo faremo in normal però io raga io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video